. Fedez dice addio a Instagram? Il rapper si prepara così all'arrivo del figlio. Fedez diventa padre, l'annuncio del rapper e la scelta di dedicare meno tempo ai social. Fedez e Chiara Ferragni sono ormai due genitori in trepida attesa. L'arrivo del loro primo figlio li sta coinvolgendo molto e oggi, a pochi mesi dalla nascita, il cantante ha voluto condividere su Instagram alcuni pensieri al riguardo. La sua intenzione è quella di dedicare molto più tempo alla sua famiglia, senza negare nessuna attenzione al nascituro e alla fidanzata. . Questo, molto probabilmente, lo porterà a sacrificare alcune cose, come il tempo che lo stesso passa sui social. Una scelta consapevole che, in ogni caso, Fedez considera fondamentale. . Fedez papà impaziente, con Chiara Ferragni vola a Los Angeles. . Chiara Ferragni e Fedez hanno dichiarato in più occasione di avere intenzione di far nascere leone negli Stati Uniti. . Lì la fashion bloggeri siede tutt'oggi. . Da quando stanno insieme la loro storia l'hanno sempre vissuta incontrandosi in diverse parti del mondo, vivendo però per periodi più o meno lunghi tra Milano e Los Angeles. . Adesso però la coppia sta volando nell'estate se, probabilmente, li resterà fino alla nascita del bambino. . In partenza per Los Angeles scrive Fedez su Instagram Stiamo organizzando il tutto per la nascita del piccolo leone. . Se Fedez rallenta Chiara, invece, decide di raddoppiare la posta, mamma, donna in carriera e amministratore delegato della sua società. . . I progetti di Chiara Ferragni invece, al contrario di quelli del fidanzato, sembrano essere diversi. . 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